Peggy 18 Andiamo a vedere A parte che se avete qualcuno lo sparo proprio malamente Che arma hai? Dalla KM Ovviamente non vengo sparato prima Madonna le borracce che ci sono qui Vedi un po' Io dovrei essere fra un quarto d'ora là più o meno Troppo tardi Guarda va, zombie, è impossibile che mi ha visto ma grata Secondo me l'ha già lottato E' il fumo che si vede da un chilometro Momenti di tensione Però non è zombie Sì Se è un player sta troppo fermo E' un zombie Andiamo a vedere Il massimo mi sparano male Mamma mia Cos'è quella? Smerch M4 Uuuuh I M4 che ci sono qua E' la roba che c'è E' la roba che c'è E' la roba che c'è BPA di quelli che andai sotto l'arma BPA? E' la palletta Eh C'è il combat knife Uuuuh C'è pure l'M C'è il fucilazzo a pompa quello Qualcoso Quello che ti fa diventare duro Si esatto Pistol grip Si col pistol grip C'è la smash vest E' potente Beh è la smash vest Potente? Beh è lo stesso fucil a pompa quello da 6 Solamente che è fatta in modo diverso Quindi fa cacare Sì Ah dico come danno Si il stesso danno di quell'altro Però qua c'è un altro M4 C'è un altro M4 C'è son due Ma va? Si Ma la smash vest vale tutto l'helicrash Non lo so Hai trovato quello fisso o quello statico? Eh si vabbè che cazzo mi uscita non lo so Non lo so neanche io Cosa dico quello fisso o quello statico Quello col fumo o quello Quello col fumo o quello No no fumo fumo Anch'io Eh dai che sto registrando Dai Scusa Porca troia Via via Fuga Tipo Un altro che verrà qua troverà un M4 Ma L'avrà sorpresa Sto prendendo Eh C'ho C'ho la KM più un altro M4 Cazzo su E come faccio a chiapparlo Nessuno 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 Ma Ma Questa porta è chiù già Nessuno 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 Ma Nessuno Nessuno Avevi Via 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 Devo agitare le ultime due prigioni Poi ho fatto 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 oltre cazzo non l'hanno cagata cabanino merda no aspetta non li vedo più li ho persi comunque non sono andati a cabanino sono andati ad adottare tra la vibor neanche cioè sono passati fra cabanino e vibor però sono passati c'è sono andati oltre capito non ho capito non mi dai una direzione perché fatica non li vedo più c'è tipo verso sud no sì e verso sud sono andati però ce l'hanno presa l'arca da cabanino capito dimmi quando sai dove c'era la base ma io dovrei vederti in teoria passare ma dove sei te sono in mezzo al campo l'internazionale e il cabanino girano la strada io sono la strada praticamente io sono è presente che se te esci dal buco del cabanino diciamo verso nord alla fine c'è lì quel robo fognario c'è un buco fognario quello non ce l'ho presente dove c'è la macchina distrutta ma io sono quasi alla spaccatura nel muro allora sto arrivando io sono full verde con un m4 in mano io c'ho la gorka la south west ok ti vedo là sei in mezzo al campo sulla mia destra girati a destra si mi sono sdraiato ok ti ho visto adesso che ti sono sdraiato ok ti vedo pure io ok dai vieni poi verso in qua te lo stelto se te la stessa cosa te lo stelto se te la stessa cosa io vedo una sagomina nera vedo che corre figa la smerche però no io vado dentro c'è nessuno vieni to 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 dada widiti la porta chezzo the valve devo premere f non mi vuol dire il tasto in mezzo oh c'ho lo zainetto smash guarda di po' oh mio no no se potevo fare un evento a cda no ok se sei venuto lì ma non hai detto niente No, io non ci credo, non me l'ho fatta attaccare Non lo so Scopri un attimo Tana Oh, ah perché c'è la roba dentro, ecco perché Oh, 16 posti, finalmente Andiamo Sto contento io